Nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, considerando i medici con meno di 65 anni, il 54% è donna. Una tendenza confermata anche in Abruzzo, dalla NAO, che è il principale sindacato dei medici ospedalieri. Gabriella Marini, segretaria aziendale a NAO Assomed per l'Asla di Teramo, ricorda che le donne sono la maggioranza del personale e dunque è necessario pensare a nuovi modelli organizzativi nei luoghi di lavoro dove si erogano cure. Una richiesta che dovrà essere presa in considerazione in questo preciso momento storico nel quale si progetta la realizzazione del futuro e moderno ospedale Teramano. Il nuovo ospedale potrebbe rischiare di essere come la quinta teatrale, di essere un bello spazio ma disabitato. Per essere attrattivo, considerando proprio la prevalenza delle donne medico, soprattutto in una fascia di età che ben si concilia con la maternità, per essere attrattivi è necessario che un ospedale abbia un nido aziendale, una scuola materna, importante anche un baby parking, perché laddove ci si trova i genitori, frequentano la stessa struttura o fanno un lavoro uguale, hanno necessità per affidare i figli di avere un posto che sia interno all'ospedale dove durante il cambio turno poter gestire anche la situazione familiare. Ovviamente accanto a questo deve esserci una mensa sia per i lavoratori che per gli ospiti e parcheggi adeguati, perché non dimentichiamo che l'ospedale deve avere una viabilità adeguata. Se vogliamo fare un'opera importante deve essere facilmente raggiungibile sia in macchina che con mezzi pubblici. Secondo lei le donne fanno poca carriera proprio per questa difficoltà e mancanza di infrastrutture? In maniera atavica le donne hanno sempre dovuto operare delle scelte difficili e delle rinunce. Credo che lo abbiamo nel DNA come abbiamo nel DNA l'attitudine alla cura. Hanno sempre dovuto fare un passo indietro per la difficoltà di conciliare il lavoro con la famiglia. E questo è quello che chiediamo noi come sindacato, che ci sia una facilità maggiore ad accedere alla flessibilità d'orario, ai congedi parentali. E tutto questo perché spesso le donne che si allontanano dal lavoro per la maternità spesso vedono interrotta la loro progressione di carriera. Non è previsto un affiancamento quando rientrano dal lavoro, magari dopo una prolungata assenza. Noi siamo multitasking, questo lo sappiamo. Sappiamo fare più cose, le sappiamo fare bene contemporaneamente e devono darci la possibilità di farlo.